A Brescia l'estate 2014 sarà ricordata come la peggiore degli ultimi anni dal punto di vista meteorologico e da quello degli abbandoni di cani e gatti. L'allarma è lanciato dall'associazione SOS Randagi che gestisce il canile rifugio di Via Girelli, una struttura nuova e confortevole che però non riesce ad ospitare i tanti amici pelose accalappiati sul territorio provinciale o abbandonati in ogni dove. Da qui l'appello dei volontari per cercare famiglia i tantissimi cani e gatti che si trovano nei box del rifugio. Abbiamo bisogno di adottanti che vengano e che abbiano la volontà, l'impegno di adottare un cane e di tenerlo per sempre possibilmente. Per quanto riguarda i cani siamo sui 110 circa, oggi ne sono arrivati altri 5, i gatti siamo sulla quarantina. Gli altri anni non è mai sembrato così pieno il come quest'anno sinceramente. Non riusciamo sinceramente a farci una ragione perché più ci sono numeri di telefono per chiamare per quanto riguarda gli abbandoni, per non lasciarli per strada, più sembra che le persone siano incentivate ad abbandonarli, tanto pensano vabbè tanto ci sono i numeri da chiamare lo troverà qualcuno e quindi sembra sempre che qua si riempia in continuazione per questo motivo. Ha fatto un po' l'effetto opposto. Gatti anche quest'anno iniziata a maggio è stata piuttosto pesante perché c'è stato un periodo in cui eravamo oltre il limite, già 40 sarebbe il limite massimo, ne avevamo anche sulla sessantina. È sempre la questione della sterilizzazione, molti non sterilizzano, la maggior parte non sterilizzano e alla fine si arriva ad avere anche le gattine incinta con i piccolini, a volte solo i piccolini che vengono abbandonati in una borsina, magari in un cassonetto, persone di gran cuore che cercano di salvarli ce li portano e quando abbiamo delle mamme che possono allattare è ben volentieri però spesso non ce la fanno. Come purtroppo accade ancora troppo spesso la maggior parte dei cani bresciani non ha il microchip e quindi è impossibile risalire al proprietario, c'è poi chi come Iago è stato ceduto all'associazione causa trasferimento dei proprietari e dopo due anni vissuti in appartamento e uno in canile si sta lasciando morire. Iago è un buonissimo cane, è qua con noi da circa un anno, già da giugno dell'anno scorso, è equilibrato, ha solo bisogno di una persona comunque esperta che possa tenerlo con sé e che insomma abbia la volontà di portarlo a spasso, di farlo sfogare e magari di fargli riacquistare anche un pochino di peso perché in quest'anno si sta proprio lasciando andare. Nell'ultimo periodo è deperito parecchio e nonostante mangi tanto non riusciamo proprio a farlo aumentare di peso. Nonostante i lavori che fino ad ottobre bloccano l'accesso da via Girelli il rifugio è aperto e aspetta tutti voi.